Ciao, oggi siamo in Val Nontei alla Ferme du Grand Paradis con Cristiano, che ha ideato il progetto Alpinlands. Ve ne ho già parlato, c'è un sito bellissimo dove è possibile acquistare dei prodotti di qualità valdostani, tutti buonissimi, ma anche delle esperienze, delle experience da fare nelle varie vallate del territorio valdostano. Oggi ne facciamo una qui alla Ferme du Grand Paradis, che è un'attività agricola di agriturismo con gli animali e sarà bellissima. Allora chiedo a Cristiano se ci dice due parole. Alpinlands nasce con l'idea di far conoscere il territorio della Valle d'Aosta attraverso le aziende che lo compongono, in particolare aziende agricole, artigianali, enogastronomiche, e quindi non solo far conoscere i prodotti del territorio, che sono tutti ottimi, ma far conoscere e capire il duro lavoro che ci sta dietro per la produzione di questi prodotti. Quindi chi acquista un'esperienza vive la vita valdostana in qualche modo, si immerge totalmente nel clima. Esatto, infatti il claim di Alpinlands è proprio vivi la Valle d'Aosta. Ah, bellissimo, andate subito a vedere. L'esperienza si articola in più tappe. La prima è magnifica perché io adoro le caprette, non so voi, guardate che belle. Sono anche dolcissime, si fanno accarezzare. Attila sta bravo, lo tengo in braccio. Questa mi mangia la gonna. Brava, sei dispettosa tu, bravissime. Sono tenute benissimo perché poi loro, mi mangia la gonna, con i loro prodotti, con il latte, preparano dei formaggi meravigliosi. Ciao, ciao. Mangiate, brave. E qui nel cuore del Gran Paradiso siamo a vedere la parte dell'allevamento bovino. Abbiamo una magnifica frisona qua alle mie spalle, guardate che bella, che si mangia questa erbetta verde tenera. E poi una sorpresa perché Paola, la proprietaria dell'agriturismo, si è fatta regalare per il suo compleanno un island scozzese, che ha anche fatto un cucciolino, non so se si vede lì seduto vicino a lei. Ed è bellissimo, eh? Per il turismo c'è anche un grande e bellissimo pollaio con galli e galline e anche altri animali. Guardate poi il panorama lassù, con le mucche che pascolano tranquille. E un altro pezzo di questa esperienza è la visita al recinto dei coniglietti. Sono tenerissimi, i bambini impazziscono. L'esperienza si conclude, guardate, con quel bellissimo panorama e con un assiette di prodotti proprio della ferme di un gran paradis che adesso vi faccio vedere. Allora, da bere? Birra del birrificio B63, la birra nuova, la valdostana, che c'è sia rossa che bionda. Tu hai la bionda e io la rossa. E poi qui ci sono tutti i prodotti della ferme, prosciutto, tettette, poi varie salcicce, questa a finocchietto, rapa rossa, lardo. Questa è la salciccia valdostana e questa col peperoncino. Poi fontina, tome varie e i caprini. Abbiamo visto prima le capre con il loro latte preparano questi meravigliosi caprini. Buon appetito a tutti e prenotate, presso il sito di AlpinLens, fate così sulla storia, le esperienze, tra cui questa.